Vengo chiamato per fare il tour di Dodi Battaglia e la notizia era che Dodi Battaglia quel tour lo faceva con Tommy Emanuele. Noi andavamo a cena e lui stava con la chitarra in mano. Ci alzavamo la mattina per fare colazione e lui era con la chitarra in mano. Le parti di Tommy Emanuele le dovevo suonare io. Tu vedi la telefonata e ti sta chiamando Tommy Emanuele. Les Paul 59 Don Felder è una edizione limitata. Penso siano 300 pezzi nel mondo. Emanuele. Alla chitarra elettrica acustica Roberto Di Virgilio. Ciao a tutti amici music off. Oggi per noi è un piacere avere qui con noi Roberto Di Virgilio. Ciao amici di music off. Un piacere avermi qui è un piacere ospitarvi nel nostro tour nell'ultima data. Nell'ultima data tra l'altro è un piacere tutto nostro anche perché noi ci conosciamo anche per aspetti culinari. Sicuramente. Oggi non ho preparato nulla a parte qualche punto andiamo tutto a braccio e ci racconterai la tua storia. Benissimo. Perché ci sono alcuni punti molto molto interessanti quindi quando è che hai preso in mano la prima volta la chitarra e perché soprattutto? Guarda inizia tutto con un capriccio perché praticamente mio padre e mio zio si dilettavano alla festa di Chieti a giocare a sto gioco delle buste dove tu vincevi dei premi e io vidi una chitarra lì esposta e volevo sta chitarra. Loro quindi si sono giocati tutti i soldi per cercare di vincere questa chitarra e non ci sono riusciti purtroppo. Per cui tutto il viaggio di ritorno da Luna Park a casa io me la sono fatta piangendo e mio zio a un certo punto non ce la faceva più e è tornato indietro è andato da quello lì e gli ha detto guarda me la voglio comprare. Quando costa questa chitarra? E praticamente mi comprarono questa chitarra elettrica finta una chitarra di plastica che io suonavo a casa davanti alla televisione però ero innamoratissimo di questa cosa qui. Diciamo che poi successivamente ho capito quello che mi piaceva veramente avevo mio cugino di Roma e ogni tanto veniva a casa mi insegnava mi suonava già bene la chitarra o qualche cosa volevo la chitarra vera che arrivò alla Befana l'Epifania sempre con una sorpresa perché successe che praticamente il giorno della Befana io scesi in cucina dove c'erano tutti i regali diciamo il cammino e non trovai nessun tipo di regalo per me per cui già diventò una tragedia già stavo in piena tragedia. C'è diventato il Grinch in quel momento. Esatto. Mia sorella invece aveva tutti sti regali e bambole e tutte io stavo così interdetto così a un certo punto sento suonare la porta e mio padre dice vado ad aprire e trovo sul piano erotto questa chitarra vera capito? E da lì ho iniziato. Che chitarra era te ricordi? La chitarra acustica eco. Ah no le classiche però la chitarra vera insomma non era più quella di plastica che insomma suonava e da lì ho iniziato a prendere delle prime lezioni mi mandarono a una scuola di musica di Acchieti feci due anni di chitarra classica dove imparai un po' a leggere la musica insomma imparai lo strumento così poi tante cose le facevo da solo. Dopo c'è stato quel momento dove è diventato un lavoro? Sì sì è diventato un lavoro grazie devo dire a un mio amico che saluto e gli mando un bacio ovunque lui sia purtroppo ci ha lasciato due anni fa. Un barissimo batterista che si chiama Danny Manzo abitava sopra a casa mia lui già suonava con delle piccole band faceva già dei tour io suonavo con dei gruppi locali a Chieti e lui un giorno tornando a casa mi disse se ti sento studiare ti sento suonare ma sai che sei bravo se vuoi venire a suonare con noi. Andai a suonare con loro loro avevano un contatto con un'agenzia di Roma che si chiama music show e questa agenzia cercava una band per un cantante che avrebbe fatto Sanremo due mesi dopo. Facemmo il provino e ci presero. Ero molto contante. Esatto. Michele Zarrino. Nell'87 vinse praticamente le nuove proposte si chiamavano ai tempi che lui non era affatto una nuova proposta perché già aveva fatto un Sanremo con una rosa blu tanti pensano che quel pezzo sia del 1998 quando è uscito il disco invece è molto... e praticamente lì iniziavo la mia carriera 1987 quindi se abbiamo tempo fino a stanotte ci racconterò 35 38 anni di musica però insomma diciamo che quelli sono stati i miei primi quattro anni di professionismo dove ho imparato tutto e dove devo ringraziare veramente Michele perché mi ha insegnato veramente come si fa il lavoro si imparato sul campo e grazie a lui grazie all'investimento che è come se lui avesse investito su una persona mi ha curato tanto ho capito bastone e carota devo dire però se faccio sto lavoro lo devo a lui una canzone nuova e una città per cantare adesso siamo sul palco di Ron e andiamo a sbirciare la strumentazione di Roberto partiamo dalla pedaliera vedo che c'è un ibrido tra digitale e analogico allora nella pedaliera noi abbiamo praticamente ho degli effetti analogici quindi praticamente distorsori no compressori non ce l'ho overdrive per cui diciamo che è un misto un po' un ibrido allora vado nel dettaglio così perché facciamo le cose fatte male eh sì pedale volume ok un booster della Nemphasis praticamente mi pareggio il suono tra la Les Paul e la Strato le due uscite sono logicamente molto diverse per cui il suono lo pareggio a livello di volume con il boost un doppio overdrive della Tefi Lab Vintage Tefi Lab sono due ragazzi dell'Aquila quindi abruzzesi che fanno dei pedali strepitosi questo è uno degli... questo overdrive è uno dei loro dove io ho un canale più TS9 ma con una grande dinamica con un bel range è un altro canale un po' più spinto leggermente più compresso che uso per magari fra self solo delle frasi per uscire un po' più fuori veramente un pedale fantastico BB preamp classico che uso da sempre la prima volta che io comprai il BB preamp tipo vent'anni fa e da allora lo tengo sempre poi ci spingo degli overdrive lo uso per spingere un po' in questo caso in questo tour si lo uso più per questa cosa qui in altre situazioni magari lo uso un po' più come overdrive leggero però la dinamica quella leggera compressione che ha mi fa impazzire quindi il pedale che io avrò sempre il REV G3 è il mio pedale per i lead questo è un tour abbastanza acustico come suono quest'anno lui voleva soli e i miei interventi lead molto più clean che non molto distorti per cui io questo REV lo uso soltanto per un solo con la slide ok il resto per i due interventi solisti che ho uno su cosa sarà e un altro mi sembra sia se non ricordo male perché magari dopo 150 eh ma ormai è finito quindi non posso più venirti a vedere quindi lo puoi vedere in una città per cantare uso il Soul Driver della Xotic il tutto va dentro due eventi d'H9 io con due eventi riesco a fare un po' tutto quello che mi serve quelle lì li controlli con la music on lab e poi tutto controllato con la music on lab avete visto anche un foglio dove senza di quella cosa lì sono perso ok questo è il tuo salvavita quindi sì io uso otto banchi di cinque preset l'uno quindi non ricorderei mai i miei suoni qualcuno qualcosa sono a memoria altri non li so e se come ho visto ci sono cambi ritorniamo alla pedaliera perché ci tengo tantissimo ah vai vai ADR Andrea Dirisio che oltre ad essere uno dei più bravi e anche mi pregio di averlo anche come amico e quindi mi ha sembrato tutta la pedaliera e lo salutiamo che salutiamo logicamente poi per la chitarra acustica uso questo Zoom A3 non ho bisogno di tantissima roba però magari mi metto un po' un filino di riverbero per me per dentro fuori ci pensa il fonico e ti fa anche da DI insomma mi fa da DI e gli do un po' di verità perché con le simulazioni che ha gli do un po' di suono del microfono per cui riesco ad avere un bel suono la Cole Clark che uso e suona già abbastanza bene da sé dopo quattro anni si ferma questa parentesi e quindi io pensavo avendo fatto già un po' di televisioni avendo fatto tanti concerti capito di essere ormai dentro l'ambiente invece come si diceva in questo lavoro perché proprio avevi fatto degli studi no seri diciamo diciamo che io decisi proprio in quegli anni in là di andare a studiare a Roma al testaccio perché mi resi conto che sì facevo la professione però non era ancora all'altezza di quelli bravi veramente perché noi facemmo televisioni eccetera eccetera quindi io incontravo musicisti quelli famosi quelli più bravi Alfredo Golino questi mostri sacri e io dicevo già essere collega di loro già mi vergogno per cui decisi di mettermi seriamente ti sei trasferito a Roma quindi lì feci i miei primi quattro anni ti faccio questa parentesi io Roma l'adoro però dopo un po' non ci resisto perché io sono abruzzese amo l'Abruzzo il mare, la montagna, il cibo per cui faccio quattro anni poi devo tornare per disintossicarmi qualche anno poi ci torno quindi in questo mio peregrinare diciamo che sono stato forse una decina di anni per cui niente ricominciai quasi da capo quindi ricominciai con la gavetta ricominciai con Drupi e vari altri artisti così finché nel 2000 nel 2000 Michele Zarrillo mi richiamò ok io andai in studio da lui lui stava finendo i messaggi di un disco e lui mi disse guarda forse ho bisogno di un altro chitarrista perché uno solo nella band che suonava lui una chitarra no? o un altro chitarrista? no c'era un altro chitarrista molto bravo che si chiama David Pieralisi ok sì sì per cui disse dai vedo e ti richiamo nel caso puntualmente dopo qualche mese mi arrivò la telefonata e mi richiamò e dal 2000 fino al 2010 sono stato ancora con quindi quattordici anni quattordici anni in tutto sì tu cosa hai imparato da questa esperienza con un solo artista perché diciamo ci sono i pro e i contro di lavorare così tanto tempo con un solo artista esatto capito succede questo i pro sono che innanzitutto se lavori tanti anni con un artista vuol dire che sei affidabile ti tiene e vuol dire che sei l'artista anche perché Michele per esempio in quegli anni ha sempre avuto una band che era una band con un suono di band qui sono passati mi raccontavi un sacco di musicisti importantissimi dove sono passati tantissimi musicisti bravi specialmente la base ritmica Cesare Chiodo e Alfredo Golino, Roberto Gallinelli, Maurizio De Lazzaretti dietro le camere c'è un nostro collaboratore bassista che probabilmente sentendo questi nomi guarda in questo tour ci sarebbe Roberto Gallinelli al basso ci sarebbe però perché questi giorni è partita Laura Pausini e lui suona con la Pausini quindi c'è il suo fido sostituto Marco Dirani però in questo tour c'è Roberto bene bene e quindi i pro sono questi i contro sono che magari suonando 14 anni con un artista soltanto non conosci tante produzioni perché lavori sempre con la stessa produzione magari ne cambi una per cui non è che sei proprio dentrissimo nell'ambiente bene quindi nel 2010 finisce questa collaborazione esatto feci un anno di stop forzato perché poi non è detto che finisci un tour se non che praticamente mi capitò l'occasione di fare un tour terrale con Giorgio Panariello per cui feci due anni con lui una grossissima produzione dove facevamo 110 date un anno e 80 l'anno successivo dopodichè mi chiamarono per fare scusa ti posso chiedere di un'esperienza del genere come Giorgio Panariello quindi non è solo un concerto io cosa hai imparato da questa esperienza? guarda io pensavo sinceramente di andare a fare cioè noi dovevamo suonare la sigla qualche pezzo tra una gag e l'altra tra un monologo e un altro in realtà non è proprio così perché in uno spettacolo così tu hai innanzitutto dei tempi da rispettare e quindi non ti puoi allargare più di tanti pezzi sono quelli delle parti da accompagnare magari da solo perché dopo un monologo c'è una canzone che lui fa e cosa molto più importante è un monologo di un attore comico di un one man show e che praticamente lui si basa tutto lo spettacolo anche sull'attualità perché ci sono dei monologhi che parlano di attualità e quindi ogni 2-3 mesi esce una notizia nuova e quindi cambia il monologo e quindi lui praticamente arrivava e diceva oggi facciamo la canzone di De André perché voglio fare questa cosa perché è uscita questa notizia e quindi ho un pezzo pronto per questa cosa qui quindi bisognava di volta in volta inventarsi un arrangiamento di pezzi a volte solo con la chitarra quindi si è stato messo a dura prova sì a dura prova ti racconto un piccolo episodio c'era questo pezzo di De André che lui faceva in una tonalità completamente particolare capito per cui dovevo usare forse il barret per avere tutti questi voicing open solo che io ero chiuso dentro una tenda da dietro avrò avuto un altro spettacolo? no e non lo vedevo perché noi eravamo una band che stava su un palco e quando non suonavamo ci veniva chiusa il sipario e quindi chi fumava una sigaretta, chi se ne andava e a volte in questa situazione qui io dovevo accompagnare lui in questa canzone quindi non aveva il feedback proprio per cui non lo vedevo e quindi il segnale di partire io da solo era una parola quando lui diceva una determinata frase io partivo tu dovevi stare tutto il tempo così in sostanza quindi dovevo stare così ad ascoltarlo perché tante volte quando tu suoni chitarra e voce per gli attacchi per stare dietro tu hai bisogno di guardare il cantante invece non vedevo niente stavo completamente dietro lì e tante volte sta parola lui non la diceva diceva un sinonimo la cambiava quindi si fermava doveva aspettare quindi tu dovevi capire che il significato era quello quindi dovevi partire però non hai mai fatto qualche gaff? no con lui non è mai successo devo dire abbiamo fatto altri tipi di gaff perché lui a un certo punto si è ho messo in mente di fare la parodia del Pulcino Pio perché in quei tempi così per cui lui cantava con la voce del Pulcino Pio un pezzo dei Cugini di Campagna e a noi della band ci faceva mettere queste parrucche bionde e siccome diciamo che io sono il più spiritoso della band lui ogni tanto mi faceva una battuta per cui io guardavo questo faccione con questa parrucca bionda dietro al maxi schermo ormai mi fai vedere una foto se ce l'hai perché sono proprio curioso di quello no c'erano molte più eleganti con la giacca però quella del Pulcino Pio con la parrucca bionda ve la risparmio perché veramente siamo ai limiti della decenza Allora come acustica ho usato la Colc Lark FL3 che è la stessa di Rom è la stessa di Rom si la presi perché da tanto tempo io cercavo questa chitarra qui questa non si fa più adesso la fanno con la spalla mancante ok ma io a me le chitarre spalla mancanti non mi piacciono e qui la cercavo così e l'ho trovata da un ragazzo vicino Padova che la vendeva d'occasione è abbastanza ha i suoi anni però suona veramente bene io penso che per i live queste siano le chitarre migliori meno che tu non hai un sistema microfono sul palco ma è difficile avere quindi condividete lo stesso pensiero tu e Ron sì anche Ron comunque usava un'altra Colc Lark la Angel mi sembra si trovava benissimo anche lui con la chitarra però ha sentito questa chitarra qui si è innamorato e allora mi dice cerca me la cerca me la cerca finché l'ho trovata lo chiamai e siamo andati a prenderla in un negozio e quindi ce l'ha anche lui logicamente facciamo a gara capire chi è più bella capire chi suona me ci divertiamo così come i bambini dopodiché ho una delle mie chitarre preferite l'Espol 59 Don Felder è una edizione limitata cavolo bello questo penso siano 300 pezzi nel mondo hanno fatto 150 e aged e c'erano 50 Voss logicamente questa è una Voss non è una aged perché altrimenti varrebbe sui la quotazione su 17 15 mila euro perché sono finite praticamente nel 2010 e quindi questa è una cosa un po' più da collezionisti logicamente l'ho wizzata perché secondo me la Gibson fa delle chitarre stravitose sui custom shop historic collection sono delle chitarre bellissime che suonano bene ma i pick up non sono all'altezza della diuteria dello strumento per cui ci ho cambiato i pick up ci ho messo due Wizz Puff Clown che sono i miei pick up preferiti praticamente hanno rifatto la chitarra di Don Felder la chitarra che ci ha registrato il solo di Hotel California infatti si chiama Don Felder Hotel California la chitarra una strato che sembra una Fender ma non è in realtà poi vi spiego il perché di questa cosa qui è una chitarra di un liutaio abruzzese che si chiama Alessandro Pizzi APS non so se hai mai sentito esatto lui ha trovato un corpo in frassino delle paludi un corpo leggerissimo veramente una chitarra che suona bene e mi ha fatto questo strumento su mie specifiche questo è un pick up mi sembra sia un Bust Bucker 2 e questi sono David Allen non conosco sono dei pick up artigianali americani io una volta mi trovavo a Los Angeles al NAM senti questi pick up e sono innamorato tantissimo Eric Johnson su alcune chitarre monta questi pick up ok, lo sapevo David Allen logicamente c'è questa cosa qui siamo riusciti a cambiare tre manici perché il primo era troppo small mi trovavo bene ma non era a tema con la strada a me piace più la strada vintage il manicone esatto, per cui abbiamo provato il manicone più grande il problema del manicone più grande con le misure e i radius fender è che magari la chitarra suona bene però per le produzioni pop dove tu devi suonare triadi oppure posizioni così la chitarra ha difficoltà ad intonarsi perché per far suonare una strada con il radius della strada devi avere le corde un po' più alte per cui insomma facevo difficoltà ad essere intonatissimo fino a qui e quindi abbiamo fatto il terzo manico che è una via di mezzo tra uno stile vintage e roasted logicamente quindi questo non è un manico fender l'avete proprio l'ha fatto a PS? è solo il decal fender perché Alessandro spazientito dopo il manico il terzo manico me l'ha dato e me l'ha assemblata e una delle cose peggiori e più brutte per me è la chitarra con la paletta dove non c'è nessuna scritta allora lui ha detto guarda sto facendo il logo nuovo questo logo nuovo non è mai stato fatto poi siamo partiti in tour eccetera eccetera allora per non avere ego ho comprato un logo fender siccome questa è una fender in tutto e per tutto ce l'ho messo io bene molto bello il manico sì veramente è una bella chitarra suona bene e sono contento dopo due anni si chiude quella parentesi e io tramite amicizie insomma che poi mi ero fatte tramite il figlio di tramite Phil Mer che è il figlio di Reddicancia vengo chiamato per fare il tour di Dodi Battaglia e la notizia era che Dodi Battaglia quel tour lo faceva con Tommy Emanuele un chitarrista che aveva appena iniziato a suonare certo Tommy è stato con noi diciamo 20 giorni non ha fatto tutto il tour però è stata un'esperienza indimenticabile perché ho conosciuto una musicista il chitarrista acustico forse più importante che c'è nel mondo è il musicista più importante sai che è il musicista però lì ti rendi conto del talento del valore del talento al di fuori della parte diciamo sul palco com'era? una persona straordinaria lui è una persona disponibile e straordinaria veramente disposta ad aiutarti lui non si stanca mai di suonare sta sempre con la chitarra in mano noi andavamo a cena le leggende sono vero quelle che dicono che lui ha sempre noi andavamo a cena e lui stava con la chitarra in mano non ci alzavamo la mattina per fare colazione e lui era con la chitarra in mano diciamo che è una sorta di estensione del suo corpo neanche del suo braccio la chitarra per cui lui nonostante tutto tu gli chiedi qualsiasi cosa e lui è pronto a fartela vedere e insegnarti le cose dico insegnarti perché poi lui fa delle cose a velocità stratosferiche è solo curiosità vabbè giusto per sapere come si fa sta cosa per lo tanto non lo farò mai così le altre date quindi oltre a quelle 20 date chi è che doveva suonare i pezzi? le parti di Tommy Emanuele le dovevo suonare io ahia fortunatamente il disco era un disco quasi pop quindi c'erano canzoni quindi c'erano delle parti di chitarra molto intriganti di chitarra acustica acustica e elettriche e acustiche elettriche solo due di pezzi il resto erano più acustiche però erano parti molto intriganti non difficilissime tranne qualche pezzo dove veramente diciamo da noi si dice ho schiumato il sangue per cercare di farle bene che vedevo che invece quando le faceva lui faceva con una naturalezza certo beh se le fa così tranquillamente che sarà si lui mi guardava capito così ridevamo sul palco capito bellissimi dei ricordi dei ricordi bellissimi con lui l'ultimo è che quando lui dopo qualche anno venne a Pescara per fare dei concerti da solo io avevo deciso di andarlo a salutare dico beh ci vado così lo rivedo ci salutiamo due giorni prima del concerto mi arriva sta telefonata con un numero straniero era lui che mi chiamò e mi dice Roberto vengo a Pescara ci vediamo stiamo insieme è stato bellissimo cioè tu vedi la telefonata e ti sta chiamando la sua mia madre passiamo all'ampli vai allora nell'ampli ho un custom work di D'Angelo Tony D'Angelo famosissimo customer italiano facendoci una chiacchierata un giorno mi disse ma che amplificatore ti piace? gli ho detto guarda mi piacciono due tipi di amplificazione il GTM 45 della Marshall che non è sparato e arriva fino a cranciare però i puliti del GTM sono veramente belli 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 è un Fender per cui lui mi disse guarda se ti faccio una via di mezzo tra i due ampli mi piacerebbe io ho detto sarebbe il mio sogno fare un ampli così ci abbiamo lavorato tanto detto così perché è proprio monocanale è una monocanale sì io uso monocanale perché mi piacciono gli ampli monocanali il perché te lo spiego perché preferisco i crunch i distorsori siccome noi siamo veramente dei bambini che giochiamo con queste macchine cambiando pedale scopri un pedale trovi un nuovo pedale cambi il tuo suono in continuazione lo rimodelli invece con gli ampli che hanno molti canali il canale distorto il crunch sono sempre quelli i suoni per cui è difficile poi dopo un po' io mi stufo io devo cambiare pedale capito magari per il prossimo tour cambierò quasi tutto non lo so tranne il BB e quindi ho sta monocanale dove praticamente a parte l'equalizzazione la presenza è semplicissima io ho due volumi una uno è la parte clean è la parte fender e un'altra è la parte Marshall quindi diciamo tu puoi mixare due carattere esatto è bellissimo perché così io ho scelto capito il suono clean e faccio tutti quei pedali ma in studio io faccio i crunch missandomi i due canali veramente in ampli che io chiamo una crema quindi tu puoi anche escludere un canale in sostanza sì il tutto non va più fino a qualche anno fa avevo una cassa avevo la 2x12 poi siamo passati in 1x12 il problema che vedi qui in questo teatro si può perché c'è tanto spazio ci sono dei posti dove tu vai a suonare non sai dove posiziona la cassa lontana logicamente dal parco per l'inquinamento quindi ti ha un microfono e dopo ti arriva e allora fuori da lì una volta passa quello dei vigili del fuoco che ti da una botta al microfono oppure all'asta un'altra volta un tecnico che scappa dietro durante il concerto per cui tu suoni e sentici ma perché non suona come prima questa cazzo di chitarra che è successo scusate per chitarra e praticamente c'è il microfono spostato per cui gli ho detto ok facciamo sta prova e quindi facciamo i primi passi dentro al digitale e allora ho optato per il Tune Hot Torpedo il Captor X uso degli R per le casse che gli R sono? sono degli R di quello che io chiamo il mio amore Giacomo Pasquali il nostro il nostro amore è un mio amico da tanto tempo ogni cosa che lui fa io devo averlo perché parliamo di una approfitto per pubblicizzare Boutique Tones momento Product Placement sì che il suo portale io ho provato alcuni dei suoi suoni che sono veramente strepitosi e vi posso anticipare che il prossimo tour io lo farò con il Tonex e con i suoi ampli ho la possibilità di portarmi dietro Divided by 13 Fender Marshall Bogner Soldano c'è una quantità di roba che sto piano piano selezionando e facendomi un po' preset e suoni per cui penso di sperimentare questo tipo di strumentazione per il prossimo tour allora riguardo il monitoraggio io uso LiveZoner sono degli amici miei di Pescara come vedi giù in Abruzzo abbiamo ampli IR ampli chitarre quindi noi siamo in IR monitor uso questi e noi abbiamo dei mixerini dove praticamente ci messiamo noi il suono abbiamo dei gruppi che ci mandano lì dove sono facciate tutte le cose e noi praticamente da lì ci facciamo i nostri volumi dopo di che feci un altro anno di Purgatorio ok perché facciamo soltanto un anno secondo dibattito dopo quest'altro anno chiamiamolo Purgatorio così ma poi per noi non è mai Purgatorio perché tu quegli anni lì approfitti per studiare per portarti avanti con tanta roba perché sai non si finisce mai di studiare perché ogni tour poi impari qualcosa perché quel cantante suona e vuole quel tipo di non dico strumentazione cioè devi suonare in un certo modo certo un altro vuole c'è un altro tipo di background quindi devi ascoltarti altra roba per entrare di più nella sua musica e tutto dopo questo anno di pausa dopo questo anno di pausa un'altra persona bassista qui devo tanto si chiama Maurizio Mariani bassista bravissimo bassista di Patti Bravo produttore di Luca Barbarossa ha fatto tanti tour anche lui fece un tour con noi con Michele Zarrillo anzi penso due se ricordo bene e poi suonava con Ron per cui quando c'è stato bisogno poi di un chitarrista nella band di Ron lui si è ricordato di me si è ricordato perché siamo amicissimi quindi ci sentiamo sempre e quindi mi chiama e mi dice guarda verresti a fare sta tournè con Ron vabbè sai che c'è bellissimo a me io lo amavo capito pensa un ricordo bellissimo il mio primo complessino chiamiamolo così avevamo 14 anni eravamo io e un mio amico che si chiama Augusto e il suo cugino che si chiama Graziano due organi buon tempi e io la chitarra questo è poi il primo complessino dove mettiamo su e i primi pezzi che noi abbiamo suonato erano Piazza Grande e 4 marzo che ha scritto Ron e 4 marzo 1900 e tu immagina l'emozione di quando poi mi sono trovato a suonarli perché noi abbiamo fatto qualche anno fa il tour dedicato a Lucio D'Ali con Ron dove facciamo questi quindi diciamo che l'esperienza con Zarrillo è stato un po' il centro di tutta la tua carriera da musicista certo quindi inizio a suonare con un nuovo artista inizio a suonare con un nuovo artista con un altro tipo di background cantautorato americano lui suona benissimo la chitarra fingerstyle quindi mi sono dovuto anche un attimo adattare a sto tipo di certo e ho incontrato una persona straordinaria persona straordinaria perché ti fa suonare come suoni tu se lui ti sceglie vuol dire quindi cerca il musicista più che il chitarrista che se lui ti sceglie significa che sa che cosa vuole da te sa e ti lascia suonare come vuoi guarda le direttive sono a lui non piace molto lo shred non gli piacciono le cose veloci anche perché non me le vedo queste cose suona con il cuore esatto dice lui suona suona con il cuore suona blues suona come tu ti senti di suonare è una persona straordinaria ci troviamo benissimo con lui disponibile un grande artista cantante e arrangiatore ci dimentichiamo che tanti pezzi di Dalla li ha arrangiati lui oltre ad averli scritti e il contrario Dalla ha arrangiato e scritto tanti pezzi di lui quindi adesso quanto tempo è che questo è il settimo anno il settimo anno anche qui si sono alternati tanti batteristi bravi mi ha raccontato la prima band c'era Elio Rivaglia e la batteria qualche data c'è stata anche le Melotti per cui insomma diciamo che siamo però una famiglia già siamo benissimo e l'ho visto sì 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 ci rivertiamo e quindi siamo veramente bene insieme comunque quando non hai l'attività live in corso sei anche un didatta sì quando non ho l'attività live insegno sono un insegnante abilitato lizard quindi dopo aver preso l'abilitazione ti faccio una domanda che potrebbe essere un po' scomoda no? no figurati tanto ma l'insegnamento come lo vedi? lo vedi come ok lo faccio perché quando sono fermo devo portarmi a casa i soldi per pagare le bollette o vedi qualcos'altro dietro l'insegnamento? esatto ti rispondo francamente essendo questa un'intervista non troverai nessuno che ti dice lo faccio per soldi no? è logico però tanti lo fanno così perché purtroppo non c'è esatto indubbiamente suonare live viaggiare fa sta vita qui è molto più bella di stare in un'aula e insegnare invece io amo l'insegnamento anche per questo magari mi chiamano anche da scuole quindi faccio veramente delle smazzate nel senso insegno la lizard di foggia alla lizard di Porto Sant'Elpidio e quindi lì ho i miei allievi che mi seguono li faccio tanti chilometri però li faccio volentieri perché veramente ho dei ragazzi stupendi gente che veramente ha voglia di studiare e lavorare e io sono veramente entusiasta di fare questa cosa qua perché mi piace veramente tanto e che poi è una grande responsabilità perché comunque sì non è facile per niente io dico sempre l'insegnamento non solo è una cosa didattica ma è anche qualcosa di psicologico perché tu devi entrare anche nella mente del ragazzo non hai sempre le stesse persone di fronte quindi devi capire come inculcare il concetto capito se magari hai voglia di dargli il bastone certo devi capire se glielo dai poi lui ti rende di più o di meno se la prende come uno stimolo oppure perché ho avuto allievi che magari dopo un po' io sono stato costretto ad essere un po' più duro per spronarli che poi invece hanno abbandonato è stato troppo sì che poi ho ritrovato dopo due anni loro ci hanno messo due anni per capire che magari stavo facendo il loro bene però io lo faccio sempre per il loro bene quindi mi piace tanto insegnare invece dal punto di vista chitarristico quali sono state le tue influenze magari quali sono le tue influenze attuali dunque diciamo che io nasco con un amore Sant'Anne nasco con Sant'Anne io vedevo solo lui dopo un po' mi sono appassionato era gli anni settanta quindi io ascoltavo tanta musica di quegli anni là dai Pink Floyd di Purple eccetera però sono sempre stato influenzato da chitarristi melodici e quella è stata secondo me una carta vincente perché io lì tu impari veramente e capisci la tua strada devo dirti una cosa tra parentesi il modo di ascoltare prima le robe era completamente diverso da adesso per cui io mi mettevo lì mettevo il disco seduto allo stereo e me lo sentivo dall'inizio alla fine poi finiva e mi risentivo il pezzo che mi piace di più me lo risentivo due volte tutto il disco adesso è tutto più veloce ma anche quindi per studiare una canzone dovevi metterti lì ascoltare ah sì 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 e adesso vai su internet tab esatto esatto cioè che è una cosa positiva se c'è della consapevolezza dietro una cosa negativa se quella cosa lì ti aiuta tanto nel training perché certo è veramente qui è troppo facile tu non riesci a fare una cosa metti tab o metti tutorial su youtube e lo fai senza sapere anche anzi a volte la fai sbagliata perché sono sbagliata esatto e trovi tutto invece lì ti trovi tu con il disco capito e quindi per cui sono andato avanti tanto con questo genere di chitarrismo poi mi sono appassionato un po' alla jazz alla fusion e di lì ho preso la parte più melodica cioè Pat Metini per cui io mi ritrovo adesso che magari suono qualche linea improvviso qualcosa e risento che magari questa cosa l'ho pescata da lì una cosa l'ho pescata da un'altra parte però gli artisti miei preferiti sono sempre quelli ma tu che tipo di chitarrista ti definisci? io se dovessi definirmi mi definirei blues, funk e pop questi sono campi dove mi piace di più dove anche culturalmente sono più ferrato insomma sono più background è quello e il resto ho avuto delle esperienze diverse con musiche diverse però diciamo che scusa il no dai mi ha steso ma sta a fare intervista no dai sì diciamo che le mie influenze sono quelle quindi riesco insomma a muovermi su quei territori lì più che altro ho fatto anche altri tipi di esperienze ho suonato con un artista di Roma bravissimo un ragazzo che io amo si chiama Davide Gombusti in arte De Niro non so se lo conosci no lo conosco un cantatore bravissimo fenomenale mi piace tantissimo suonare con lui musica un po' più particolare a parte del canto autorato romano un po' più chiamiamolo indie rock grazie Roberto per aver fatto questa splendida chiacchierata è stato un piacere capito starei ancora con voi adesso mi accingo a fare questo soundcheck poi noi ci rivediamo noi ci godiamo grazie mille grazie grazie a voi grazie a voi che si può fare capito questo l'hai capito? l'hai capito? grazie a voi grazie a voi